Musica Parliamo della Soleco, un'azienda che è operativa in Italia dal 1975. Abbiamo importato in Italia le lenti a contatto negli anni 70, introducendo dei nuovi prodotti, delle nuove linee di prodotto come le soluzioni, come le lenti a contatto colorate e ultimamente anche le lenti intraoculari, di cui andiamo particolarmente orgogliosi, che sono i cristallini artificiali che vengono utilizzati nell'operazione della cataratta per un intervento chirurgico. Nel 2010 abbiamo avuto un volume di export superiore al 60%, per cui siamo orgogliosi di portare il nostro marchio, il nostro prodotto in tutto il mondo, senza nessun limite, dal Giappone al Nord Europa, al Centro e Sud America. La forza del nostro prodotto e del nostro marchio è il fatto che è un made in Italy vero e proprio. Tutte le nostre produzioni sono al 100% realizzate in Italia, partendo dalla materia prima. Il nostro principale obiettivo e target è quello di continuare a supportare il mercato dell'ottica italiana e non solo con prodotti di qualità, con prodotti innovativi e con la massima flessibilità nei confronti dei nostri clienti. Quest'anno al Mido ci presentiamo con la nostra rinnovata linea di prodotti e un nuovo marchio che è quello del Queens, sotto il quale si riuniscono tutti i prodotti, dalle lenti a contatto alle soluzioni a base di acido ialuronico, un prodotto estremamente innovativo che aumenta notevolmente il comfort dei nostri prodotti per i nostri consumatori. Grazie per la visione!